Ufficiale, Miri Di Miral è un nuovo giocatore della Juventus, prelevato dal Sassuolo per 18 milioni di euro, pagabili in 4 esercizi, per lui un contratto di 5 anni fino al 2024. Allora, partendo dal presupposto, per chi non lo conoscesse, è un difensore che ha giocato per 6 mesi al Sassuolo, è un classe 98, quindi a 21 anni, nazionalità turca, è alto 1,92 m, quindi nei due lieri e nel gioco aereo sicuramente molto molto superiore, un difensore che da calcio piazzato può essere anche molto utile, un'altra sua caratteristica è il senso della posizione, è un difensore che sa marcare bene e sa tenere molto molto bene la posizione, questa è una cosa molto importante, però qual è il problema? È un difensore molto giovane, è un difensore di prospettiva, è un difensore che ha sorpreso molto nei 6 mesi di Sassuolo, tant'è che la Juventus l'ha preso e non c'è nulla di male, fin qui ci può stare, secondo me comunque la Juventus lo girerà in presito, non lo farà debutare immediatamente in prima squadra, per me lo girerà in presito ad altre squadre di Serie A, magari allo stesso Sassuolo, e dopodiché De Miral potrebbe approdare la Juventus, potrebbe giocare la Juventus, però qual è il problema? I 18 milioni, per me non vale 18 milioni, può valere 10-15 milioni, secondo me 18 milioni sta già iniziando a essere una cifra troppo eccessiva per il giocatore, per un giocatore che tutto sommato si è fatto avere solamente 6 mesi, perché il Sassuolo l'ha prelevato a gennaio 2019, questo significa che l'ha prelevato da una squadra turca a metà campionato, quindi non è che abbia tanto senso spendere così tanto per De Miral, io avrei speso, ripeto, una cifra tra i 10-15 milioni ci può stare, ma anche lì si esagera per quello che ha fatto vedere De Miral, per i soli 6 mesi che ha fatto vedere al Sassuolo, però diciamo che non è che mi possa lamentare più di tanto, tanto lo gireremo in prestito, quasi sicuramente, e spero che quei 18 milioni li valga, non è che poi ci pentiremo di 18 milioni spesi per nulla che potevano spendere magari per un altro acquisto di prospettiva, quindi ragazzi fatemi sapere con un commento qua sotto, se secondo voi De Miral è il profilo giusto per la Juventus, comunque se lo gireranno in prestito, se De Miral debuterà immediatamente con la Juventus, iscrivetevi al canale, lasciate like e seguite su tutti i miei social Twitch, Instagram e Facebook, trovate tutto in descrizione, detto questo, ciao ragazzi!